Siamo entrati nella quarta puntata del filo d'Arianna. Stiamo trattando in questo filone il fenomeno del narcisismo patologico. Nelle precedenti puntate siamo arrivati ad un punto. Dottoressa Valeria Loe, psicologa clinica, siamo nell'ambito del rapporto di coppia, siamo nella fase idilliaca, però questa fase idilliaca ad un certo punto termina, si arriva al capolinea e il narcisista si trasforma. Perché si trasforma? E in cosa si trasforma soprattutto? Si trasforma quindi da principe azzurro quasi a carnefice, perché come dicevamo nella scorsa puntata rievoca quelli che sono un po' i suoi vissuti e il fatto che il narcisista fondamentalmente non ha al suo interno interiorizzato un oggetto buono a livello diciamo psichico, emotivo. Come se avesse anche paura di amare se vogliamo. Sicuramente ha paura di amare, sicuramente, perché percepisce l'investimento emotivo con l'altro e nell'altro come una perdita di confine quasi. Ricordiamo che colui o con lei che soffre di narcisismo patologico ha in realtà un nucleo al suo interno molto fragile. Sono persone che all'esterno mostrano molta sicurezza di avere un atteggiamento diciamo spavaldo nella vita, anche carismatiche molto spesso, dal punto di vista sociale possono ricoprire dei ruoli anche diciamo di buona adattabilità, ok? Però poi dal punto di vista relazionale sono persone altamente insicure e molto 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 fragili. Senta dottoressa, cosa possiamo dire? Cioè, una persona, non dico una persona normale perché se no viviamo il narcisista patologico come se fosse una persona anormale non lo è. Ognuno di noi può avere delle problematiche, non significa siamo anormali, ci mancherebbe altro. Però si riesce a stabilire un ruolo, si può convivere, si può creare una storia, una famiglia con un narcisista patologico. Se ne può uscire il narcisista patologico e come eventualmente da questa sindrome, se sindrome è? Beh, diciamo che stabilire una relazione equilibrata, sana con una persona che ha una forma di narcisismo patologico è altamente difficile, se non improbabile. Proprio perché si innesca un circolo vizioso fatto appunto di varie fasi che tendono a ripetersi. Potrebbe palesarsi in qualche modo l'opportunità nel momento in cui da entrambe le parti si intraprende un percorso, un grosso lavoro, soprattutto dal punto di vista del narcisista. Bene, c'è da dire che comunque è una tipologia di disturbo molto ostica, è molto difficile da trattare. Un compagno di viaggio, un partner, cosa deve fare? Ma quando ci troviamo in relazioni tossiche, come può essere appunto quella con una persona a stampo fortemente narcisista, in quel caso dovrebbe subentrare anche l'amore per se stessi. E a quel punto fare cosa? A quel punto se ci sono appunto ingredienti... La psicoterapia riesce a dare risposta in questo senso? Senza dubbio può essere di grande aiuto a fornire degli strumenti, risolutivo dipende da cosa intendiamo per risolutivo. Cioè uscire fuori da questa megalomania dell'io diciamo, no? Bisogna fare un grosso percorso e lavoro terapeutico innanzitutto bisogna che si prenda coscienza di quello che è appunto il disturbo. Eh, questo è il punto. Spesso si dice, dottoressa, qui gliela devo dire tutta fino in fondo, bisogna partire da se stessi. Ecco, è un concetto che da un punto di vista della teoria capiamo, ma poi ci mancano degli strumenti attuativi. Cioè quando si dice partiamo da noi stessi, che significa concretamente? Eh, infatti molto spesso sentiamo parlare di amore, di avere amore per noi stessi, che tutto parte da noi stessi, come hai detto tu, però può rimanere diciamo abbastanza aleatorio. Innanzitutto partire da se stessi, dal mio punto di vista, significa cominciare ad entrare nell'ottica della responsabilità. Cioè significa prendere consapevolezza di se stessi e quindi intraprendere, andare in cantina, come mi piace dire, è andare un pochino a fare un viaggio dentro noi stessi per poterci conoscere meglio, capire quali sono i nostri, anche i nostri punti d'ombra e poterli integrare per poter poi a nostra volta porci nei confronti dell'altro in maniera più sana. Quindi partire da noi stessi significa questo, smettere ad un certo punto della propria vita di essere in balia delle circostanze esterne, additando sempre all'esterno la causa dei nostri mali, ma senza né vittimizzarci e né colpevolizzarci, cominciare ad entrare in una prospettiva in cui ciascuno di noi può essere responsabile e artefice della propria vita. Siamo in conclusione, concludiamo con una email che ci è pervenuta di quella che dovrebbe ipotizzo essere una vittima, poi in altre puntate cercheremo di… perché per quanto ci riguarda la linea editoriale di questi format non vede il carnefice e la vittima, per quanto ci riguarda entrambi i soggetti sono vittime di un sistema, poi cercheremo un po' di capire nel prosieguo come eventualmente aiutare persone che soffrono di questa tipologia, di questa sindrome, non è facile. Però è importante, so, una cosa la possiamo dire, dottoressa, importante è almeno parlarne, cioè mettere al corrente le persone che sono coinvolte ed entrano in questo tunnel di quali sono comportamenti e condotte che possono disturbare e ferire. C'è arrivata questa email, ad un certo punto finisce la fase idilliaca e il narcisista difficilmente si assume le responsabilità, è come se fosse sempre colpa degli altri. Uno dei tratti caratteristici proprio è questo, l'incapacità di autocritica totale e quindi di prendere coscienza di quelle che sono le sue… Molto difficilmente il narcisista si mette in discussione, per questo molto difficilmente giunge anche in percorsi diciamo terapeutici, proprio perché non ha la capacità di autoriflessione poco sviluppata, pur essendo una persona dal punto di vista intellettivo e sociale molto spesso ben adattata. Bene, continuate a scriverci, noi siamo qui per continuare questo nostro percorso e per oggi con il filo d'Arianna è tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti